musica 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 la prima parte disponibile musica musica bansill musica musica m musica musica C'è più che tutto, io lo tieni e siamo preservati Che tecnologica a te non stai mai! Quella è meraviglia! Bellissima! Vuole 50 milioni! 50 milioni! Ah, sì, almeno! Perché quando ti pagano 1.000 euro per settemane... ...com'è? Vabbè, ma quella è già costata che... automatica! Le macchine automatiche costano già una cifra di più! Però poi è tutta tecnologica qua! Mi dispiace solo che non abbiamo avuto il tempo di vedere un po' sto computer al di bordo! E' una cosa bellissima! Guarda, si può entrare così! Ma è in un turno! E' questo modo... Qui... Voi dovreste fare il resto, solo là! Sulla mer... ma è lago o il mare? no, è lago no, 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 c'è la mer ah beh, allora ah, e poi stiamo avvicinati a San Drogue quindi c'è la mer non c'è la mer sai, non costruiscono la mer perchè lei è di due cote non c'è la mer lei è di più un po' la mer 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 anche l'orario il tempo non è un gran che quindi automaticamente ma domani penso che sia un po' più affollato che ora siamo? le due e mezza allora 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 è finito adieu mangiare e te l'ho detto tu a ogni ristorante mi dici di no? e beh sì e che devo dire? è lui che ti dice sì fermi la mer la mer la mer la mer la montagna la montagna la montagna però tu mi devi far capire dove vuoi andare va bene allora andiamo prima a mangiare e ci leviamo i mangiare da mezzo e dopo ci facciamo la battaglia per trovare l'hotel perchè così non si può fare perchè ti fanno le quattro e le cinque per vedere per decidere l'hotel no l'hotel va ad altri che sei tu se ti dice ma anche se ti dice il tempo è buo e tutto comunque vediamo prima la mangiare e va a bella vista e basta poi ha una bella vista la bella vista bella vista c'è mi s'appelle bella vista o ma bellevue? ma bellevue ma bellevue tu vuoi dire bella vista? ma che vuoi dire bella vista? ma che vuoi dire bella vista? tu dici bella vista tu vuoi andare con me? non vuoi sempre puntualizzare sulle cose io sto dicendo ma bellevue e tu dici bella vista che vuoi da me? per chi è il nome italiano? beh lo so però è sempre che mi fa e là vabbè 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 il va troppo tard c'è l'hotel e molto più alto la cattolone Si tu veux C'est bon, tout est bon C'est plus bas en octavre En septembre octavre, au mois d'août à côte En juillet août, il faut faire un voyage Pas l'air en Amérique Et puis En septembre octavre, à côte La fronte de mer Petrusel Petrusel Pицche Petrusel Petrusel Cesermas La fronte d'ıt Quo K Riemonie Qua Banda Car го Australia Motel Cap Rivera Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.